La Procura di Firenze ha fatto richiesta al GIP di rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, accusati di emissioni di fatture false da parte delle loro aziende. Chiesto il processo anche per l'imprenditore pugliese degli outlet Luigi D'Agostino, che deve rispondere delle stesse accuse più di un'altra per troffa. Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono accusati di aver emesso fatture false per operazioni inesistenti da parte delle società da loro stessi controllate, la Parti e le 26, verso la Tramora SRL, l'epoca in cui era amministratore D'Agostino. Le fatture contestate sono due, una da 20.000 euro più IVA, l'altra da 140.000 euro più IVA. In entrambi i casi le aziende di Renzi erano state incaricate di realizzare studi di fattibilità per il centro commerciale De Molla, ma per gli inquirenti i tali studi non furono fatti, mentre invece i pagamenti a favore delle aziende di Renzi sì. Hanno ordinato l'aggressione con l'acido del futuro genero perché, contrario al matrimonio della figlia, con questo uomo più grande di lei di oltre 20 anni è quanto ricostruito dai carabinieri di Poggi Bonzi, che hanno arrestato una coppia di 54 e 45 anni per le lesioni subite al volto dal 48enne. Indagini sono in corso per identificare gli autori materiali delle aggressioni avvenute il 23 febbraio scorso a San Gimignano il 19 aprile a Torino. Svolta nell'inchiesta della Procura di Milano sulle buste esplosive indirizzate circa un anno fa il PM di Torino Antonio Rinaudo e Roberto Sparagna, impegnati in importanti inchieste, tra cui quelle sulle frange violente del movimento Notav e sull'area anarchica. Da quanto è trapelato, sulle buste è stato rinvenuto del DNA che nei prossimi giorni verrà analizzato nei laboratori del RIS di Parma. Inquirenti e investigatori confidono in un risultato positivo dal confronto con i profili genetici presenti nella banca dati del DNA. Parte da Bergamo l'iniziativa tra l'Aiga, l'Associazione dei Giovani Avvocati e l'Amministrazione Comunale per un'ora di legalità a settimana nelle scuole. Il progetto rende noto l'Aiga a partire all'inizio del prossimo anno scolastico con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti ai temi della legalità e promette il Presidente nazionale Vermiglio verrà proposto al MIURA di renderlo un progetto nazionale. Nel frattempo Aiga Bergamo aderirà all'iniziativa con un contributo concreto al buon esito della stessa con la partecipazione ossiativa delle associati al percorso di divulgazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento e riaffermando in tal modo la funzione sociale dell'Avvocatura.